musica 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 e ai galera ora per la seconda viaggio e a gente vai per Ilha Grande ben conosco ciao 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 bora e ai? a gente está aqui em Contestional de Jacare e a gente vai pegar o barco rápido para Ilha Grande vai fazer uma hora? 15 minutos 15 minutos musica 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 opa que beleza acabamos de chegar Ilha Grande então agora vamos para Bussada musica 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 é maravilhosa a vista é muito boa as casas parecem muito lindas e tem água quente eu me sinto dor nos olhos eu sinto mais dor estamos chegando na pousada o nome é? pousada do canto Esattamente, e questo è questo giù. Stiamo sentendo quattro. Vamos! Oh! Oh! Que legalzinho! Qui, nel Cafè del Mar, in fronte della praia, e abbiamo un suco naturale di abacacchi e mangas, e la musica è ottima qui. E tutto è bello, bello tranquillo. La praia sembra molto calma. Abbiamo qui, sorriamo, i bambini, i bambini, i bambini, le persone corriendo. È molto buono, molto buono per rilassare un pochino prima di explorare un po' più. Io vorrei stare qui per sempre, famiglia grande. dove iso, famiglia grande. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vamos a fare un mergulio. Grazie a tutti. 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 a tutti. dentro del mar. a tutti. 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 . a tutti. a tutti.